La ripresa dello sport sociale e per tutti riparte da politiche pubbliche in grado di generare salute. Con questo spirito l'UISP ha presentato a Roma il progetto Sport per Tutti, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto coinvolgerà 26 comitati territoriali sparsi in 15 regioni, ma anche università e organismi sociali. Questa sarà l'occasione concreta di accesso al diritto allo sport per i cittadini di tutte le età.